Non accetto che mi si dia del razzista. Su quattro figlie ne ho regalate tre a uomini figli di immigrati. Ciao Pierre Paul Ling. Rashid Abdul Mohamed Benassan. David Isaac Benishu. Ho la pelle d'oca. Stavo pensando alla figlia più piccola. Lei sposerà sicuramente un cattolico. Mi voglio sposare? Lui è... come dire... Sì? Falatore. Chi è l'autista? Tesoro, gliel'hai detto che sono nero? Hanno una faccia. Avremo dei nipotini mitici. Quel nero sta mettendo a repentaglio l'equilibrio della famiglia. Ricapisco, è umano non voler condividere la torta con il fratello negro. Saremo noi la torta? Sì, ma è una metafora. I genitori di Lor sono molto tolleranti. Le altre figlie si sono sposate con un cinese, un ebreo e un arabo. In che razza di famiglia ti metti? Coupé, decalé, coupé. È un selvaggio. Fate un bel sorriso. Anche i genitori della sposa. Gesù Bambino, che è il figlio di Dio. La nonno è un po' sopravvalutato Gesù Bambino. È soltanto un profeta.